Torna in campo una grande città, il movimento civico che nel 2010 aveva presentato con scarsa fortuna la candidatura a sindaco di Alfredo Sibilia. Siamo intenzionati a incidere sulla campagna elettorale per le comunali 2015, spiegano, per riproporre un modello di città che veda al centro la terraferma. Passare da una mentalità centro-storico centrica a una mentalità che si basa sulla terraferma, vuol dire passare da una mentalità basata sulla rendita di posizione a una mentalità basata sullo sviluppo, sul rischio. Per uscire dall'immobilismo sostengono occorre liberarsi dal condizionamento di alcune lobby, soprattutto veneziane nemiche del cambiamento. Parliamo di commercianti, albergatori e gondolieri. Purtroppo questa città è ferma ed immobile proprio perché ci sono tutte queste lobby veneziane che di fatto impediscono lo sviluppo della città. E questo è il motivo per cui noi diciamo che il sindaco deve essere mestrino perché deve essere svincolato e fuori da tutte queste logiche corporative veneziane che non sviluppano la città. Stavolta però assicurano non presenteremo una lista con un nostro candidato perché siamo consapevoli che non sarebbe un buon sistema per essere incisivi. Oggi ci proponiamo come un contenitore, un luogo di dibattito fermo perché comunque abbiamo già impostato la nostra filosofia che non è altro che quella di cinque anni fa. Adesso però ci proponiamo come luogo di dibattito e di incontro. È ovvio che se ci sarà qualcuno che recepisce i nostri contenuti e quindi darà prova di essere coerente con quello che diciamo, allora si potrà discutere anche di un appoggio comunque indiretto perché non faremo sicuramente una lista civica autonoma.